In occasione della Giornata della Memoria 2024, l'ex Convento dei Minimi di Roccella Ionica ha ospitato lo spettacolo Guten Morgen Ferramonti, a cura dell'associazione Metexis e con il patrocinio del Comune di Roccella Ionica. Lo spettacolo teatrale racconta i mille giorni di una giovane ebrea nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza, liberamente tratto dal libro con l'agente di Ferramonti, di Nina Wexler. Con Lara Chiellino è l'adattamento e la regia di Dora Ricca. Nel passaggio drammaturgico, i molti dettagli della storia si trasformano in emozioni, sguardi, parole, gesti e azioni dell'unica attrice in scena, che lascia intravedere la moltitudine umana dei tanti internati. Si descrivono anche con poesia e malinconia il rapporto con il territorio, sia paesaggistico che culturale, in un'esperienza unica e indimenticabile per gli oltre 2000 ebrei che si sono salvati, grazie a questo internamento così geograficamente lontano, dagli altri campi nazisti di sterminio. Lo spettacolo che presentiamo questa sera è tratto da un libro che ha scritto una prigioniera del campo di Ferramonti, che si trova vicino Cosenza, vicino Tarsia. E' il campo di concentramento più grande d'Italia, ma è anche quello più sconosciuto in Italia, perché non ci sono stati morti, non ci sono stati grandi tragedie. Questo campo di concentramento ha avuto vita per circa tre anni, poi sono stati liberati tutti i prigionieri per via della fine della guerra, e quindi, pur avendo avuto una storia bellissima, lunghissima, tutti i prigionieri in qualche maniera sono stati liberati, hanno avuto la vita risparmiata dalla buona gestione del campo e anche dalla lontananza del campo di concentramento qui in Calabria a dare al resto dell'Europa. Gutenmorgen Ferramonti, mille giorni di una giovane ebrea in un campo di concentramento, racconta la storia di Nina Wexler, detenuta a Ferramonti per tre anni, che ha scritto una sua memoria, un diario, con i vari personaggi e le varie vicissitudini vissute in questo campo, in Calabria, che era il più esteso d'Italia, il più isolato, quindi in qualche modo anche il più protetto.